Le auto elettriche Tesla saranno solo disponibili online. Elon Musk ha voluto così adempiere la promessa già annunciata lo scorso gennaio dal Colosso di Palo Alto in California di rendere più accessibili le sue vetture elettriche e aumentare i profitti, mossa che però si tradurrà nella chiusura di molti punti vendita e nella perdita di posti di lavoro per circa 3.000 persone. Una decisione, secondo quanto annunciato in una nota, che consentirà di ridurre i prezzi delle vetture del 6%. Tesla era già sbarcata online su Amazon con il primo store digitale per il merchandise fuori dai saloni. Ora è in vendita sul web la sua Model 3, disponibile per 35.000 dollari.